Pronto? Avrei dovuto rispondere io. Mi piace rendermi utile. Potrebbe cominciare spegnendo la sigaretta, allora. Ha sempre la risposta pronta, vero Scully? Non è capace di bussare come i comuni mortali? L'ho fatto. Nessuno ha risposto. Lei sta male? Mi hanno operato. Che cosa vuole? Voglio che smetta di cercare. Lo voleva anche nel 1973. Ha ordinato la sospensione delle ricerche di Samantha. Ci sono le sue iniziali su quel documento. Sì, ho fermato quell'ordine. Perché già allora conoscevo la verità. Non la troverete. Perché no? Non può che essere morte. Non c'è motivo di pensare il contrario. Io non le credo. Se sapeva che era morta, perché non l'ha detto prima? Perché solo adesso? C'era troppo da proteggere allora. Adesso è finita. E ha lasciato che Mulder la credesse viva durante tutti questi anni. Permetta consiglio, agente Scully. Gli consenta di restare all'oscuro. Di continuare a sperare. Gli consenta di restare all'oscuro. Sì, grazie a tutti. Sì, grazie a tutti. Sì, grazie a tutti. La sorella ha vissuto qui? Sì. In una di queste case? Dove? Ho perso la percezione. Quale casa, Harold? Me lo dica, quale casa? Non lo so. Non ho tempo da perdere. Avanti, che casa era? Andiamo, presto. Aveva ragione. Samantha è stata qui. Come lo sai? Guardi. Ne ero sicuro. Gliel'avevo detto, no? Ha omesso di dire... con chi è stata qui. Ho perso. L'abbiamo. Mi. L'abbiamo. Mi. Ma. Mi. Mi. Grazie a tutti